Sette su sette, il Barletta non fa sconti e regola con un secco 0-3 anche l'Arborisbelli. La doppietta di Baio mette in discesa la gara. Nella ripresa, invece, è Mariani a chiudere i giochi. Sono i padroni di casa, però, a stappare la partita. Calcio da fermo dalla destra di La Guardia per la testa di Guarnaccia, che non inquadra il bersaglio più grande. All'undicesimo, il Barletta mette subito la freccia a sinistra. Corner di Lavopa per Bernaola, che manca l'appuntamento con la sfera. Sotto porta, però, c'è Baio, che deve solo spingere in rete per lo 0-1. Al ventiduesimo, la squadra di Mister De Candia raddoppia. Calcio d'angolo che attraversa tutta l'area di rigore. Baio si coordina e sforbiciata in fila Menegatti. Gran gol per l'ex Canosa. Subito doppietta all'esordio da titolare. I biancorossi giocano sul velluto. Prima è Lattanzio, di testa, a sciupare da buona posizione. Poi è Lopez, a non pungere in area di rigore. Al quarantesimo, il Barletta perde Baio per un tocco duro di mezza pesa. Al suo posto c'è Mariani. La prima frazione scivola via senza particolari sussulti. Nella ripresa, poche emozioni. Il pallino resta comunque tra i piedi del Barletta, che nei primi minuti non affonda mai il colpo. I biancorossi puntano la sveglia al settantaduesimo, quando un lob di Montrone in aria mette i brividi a Menegatti. Prove generali per il Tris, che si materializza sei minuti più tardi. Bernaola pesca Turitto, che trova un ottimo Menegatti sulla sua strada. L'azione prosegue e l'estremo difensore non può nulla su Mariani, che indisturbato deposita in rete per il Tris. Nel finale c'è spazio anche per il lampo del neo entrato Giambuzzi, che si stampa sulla traversa. E' l'ultima occasione della gara, al Gianni Ruggeri 0-3 il finale. Prosegue la corsa in solitaria del Barletta, in vetta alla classifica.